La Commissione Europea sostiene la campagna EU Code Week, Settimana Europea della Programmazione, una settimana durante la quale i ragazzi di tutte le scuole, i ragazzi delle scuole d'Europa, in tutta Europa in simultanea, sono messi in contatto con la programmazione e con il pensiero computazionale. Questo mondo, questa rivoluzione digitale ha un impatto forte sul mondo del lavoro. Il mondo del lavoro richiede competenze digitali, queste competenze sono sviluppate nelle scuole. Evidentemente la campagna del codice, la campagna della programmazione non sfornerà competenze digitali, non sfornerà ingegneri e informatici, ma speriamo attiri un maggior numero di ragazzi verso lo studio delle materie, verso lo studio dell'informatica e dell'ingegneria. Si tratta del coding, del pensiero computazionale, di una competenza trasversale, indispensabile in piena fase digitale, sia da un punto di vista sociale e culturale, ma ancora di più da un punto di vista economico ed occupazionale. è impossibile pensare di costruire una prospettiva per un giovane senza attingere a questo tipo di competenza.